Riparte Utopia, la rassegna giunta alla sesta edizione, Giombi, qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Noi siamo un liceo che ospita al suo interno anche un indirizzo classico, quindi sentiamo anche il dovere, diciamo, anche istituzionale, di offrire alla città momenti di riflessione, approfondimento sul mondo classico, sulla sua eredità, direi meglio, sulla sua permanenza. Quindi questo è un po' quel senso. Tra l'altro anche il titolo di questa rassegna che per il sesto anno riproponiamo, Eutopia, la dice lunga, tra virgolette, è una forma di, come dire, lavoro sul termine più noto che è utopia, che noi in qualche modo trasfiguriamo in eutopia. L'utopia, lo dice l'etimologia greca, è un non luogo, u è l'avverbio greco che indica il non, la negazione. Noi l'abbiamo in qualche modo rivisto, trasfigurato in eutopia, che è un altro avverbio greco che indica invece il bene, la bontà. Quindi ciò che non è un luogo, che potrebbe ancora non essere un luogo, diventa per noi un bel o un buon luogo. Chi ha collaborato al progetto? Ma il progetto nasce dal nostro liceo, ma il valore aggiunto è che nasce anche, soprattutto, per impulso di nostri studenti. Nostri, in questo caso, anche ex studenti. Ringrazio in particolare Edoardo Liccio e Eleonora Tonelli, i nostri ex studenti, da cui è nata allora l'iniziativa e che continuano a promuovere. Naturalmente la cosa non potrebbe continuare, se non con l'ausilio, la collaborazione dell'assessorato alle biblioteche, che ringrazio, e alla Mediateca Montanari, che ovviamente ringrazio. Dunque sarà la Memognese che ospiterà queste iniziative. Quanti saranno gli appuntamenti e chi saranno i protagonisti? Allora, gli appuntamenti per questa sesta edizione saranno quattro. Apriremo le danze il 26 di aprile con Luigi Maria Epicoco, che presenterà questo libro dal titolo La scelta di Enea. Una lettura molto nuova, molto originale, dell'Eneide di Virgilio alla luce della contemporaneità. Naturalmente il tema che abbiamo scelto quest'anno è il diluvio digitale, anche sul suggerimento dei nostri eutopici ragazzi, e il diluvio digitale come, diciamo, momento in cui si fa fatica a scegliere tra l'abbondanza di dati, di informazioni, eccetera. E quest'anno la scelta degli autori va proprio in questa direzione, mettere in rapporto il mondo antico con le problematiche legate a questa abbondanza di digitale. Il secondo appuntamento sarà dedicato alla presentazione di questo straordinario libro Indice Storia del. È la storia dell'indice, dai manoscritti a Google, la manturosa storia di come abbiamo imparato a orientarci nel sapere. Questo sarà il secondo appuntamento. Il terzo appuntamento vedrà protagonista al professore dell'Università di Urbino, Alessandro Bogliolo, che ci aiuterà ad entrare nei meandri del coding, questa metodologia trasversale della cultura digitale che ci aiuta a usare in modo critico la tecnologia e la rete. Infine, l'ultimo appuntamento, un dulcis in fundo, avremo Andrea Moro, la data è ancora da definire, è uno straordinario linguista che ha fatto questa intervista con Noam Chomsky e verrà a Fanop a presentare questo suo libro intitolato I segreti delle parole.